Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo tutorial, ragazzi in questo nuovo video vi spiego come risolvere gli errori su Steam Cloud andiamo un attimo su Steam Impostazioni Cloud, cercate di tenere questa spunta su Abilita la sincronizzazione di Steam Cloud per le applicazioni che lo supportano fate ok, poi andiamo un attimo su Microsoft Defender, questo sicurezza di Windows ce l'ha sia Windows 10 che Windows 11 qua sotto cliccateci sopra andiamo un attimo su protezione Firewall della rete consenti app tramite Firewall facciamo modifica impostazioni consenti un'altra app sfoglia andiamo a prendere andiamo sul nostro disco dove abbiamo installato Steam quindi andiamo su programmi per 86 scendiamo fino a giù, fino a trovare la cartella di Steam e cliccate qua sopra su applicazioni di Steam oppure su Steam Reporter oppure 64 fate come volete, tanto è uguale oppure Stream Client andiamo a fare su Steam facciamo apri e facciamo aggiungi ovviamente io Steam è già nell'elenco dell'eccezione quindi facciamo ok scendiamo fino a giù fino a trovare Steam ecco qua Steam mettete sia su privata che pubblica se questo video vi è stato utilissimo ragazzi noi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao